Salve a tutti e ben ritrovati per questo nuovo episodio da 700 a 2400 su l'ICESS Siamo giunti al quinto episodio e devo dire che la serie sta avendo un successo non indifferente Quindi sono contento di questo, continuiamo Ora abbiamo beccato un 950, il primo avversario E i 950 sono anche il nostro obiettivo di oggi Quindi E4, E5, andiamo di gambetto Abbiamo detto che farò vedere un po' tutte le aperture Quindi gambetto di re, gambetto di re rifiutato in questo caso poiché lui ha giocato cavallo C6 per difendere E5 Proviamo a giocare a questo punto cavallo F3 Che è sempre una mossa utile per prevenire gli attacchi di donna in H4 Ora lui ha giocato cavallo F6, sta sviluppando i pezzi, mi sta attaccando il pedone in E4 Bravo! Quindi andiamo a difendere con il cavallo E ora il piano è quello di giocare alfiere C4 a Rocco, aprire la colonna F e cercare di attaccare la casa F7 Però attenzione, perché vedo che lui comunque gioca molto molto bene direi Perché? Perché ora qui sta attaccando con l'alfiere in B4 il cavallo che difende la casa E4 A questo punto non so se continuare lo stesso con alfiere C4 A cui seguirà senz'altro alfiere mangia cavallo in C3 Poi io avrei pedone mangia alfiere e lui probabilmente ha la mossa cavallo mangia E4 Cavallo mangia E4, a quel punto io potrei arroccare e mi sembra di dare un pedone però di avere un grosso vantaggio poi Non lo so, proviamo, vediamo se ho ragione, vediamo se lo sviluppo aiuta in questo caso Alfiere C4 vado ad attaccare F7, lui qui ha catturato in F4, questa effettivamente non me l'aspettavo Perché poteva appunto guadagnare il pedone E Quindi andiamo innanzitutto a giocare per esempio D3 In questo modo vado a difendere il pedone E e vado ad attaccare il pedone in F4 In più ho l'alfiere ora sviluppato, quindi attacca F7, lui ha fatto bene ad arroccare Vado ad arroccare pure io Devo dire che sta giocando discretamente l'avversario Riprendiamo indietro il pedone Però come vedete ho vantaggio di sviluppo perché ho sviluppato tutti i pezzi Ora lui qui sta giocando cavallo H5 che secondo me non è una mossa così buona Serve a guadagnare un tempo sull'alfiere ma poi il cavallo in H5 è un pezzo sospeso Quindi rimane sotto attacco Torniamo indietro, per esempio alfiere E3 E ora la mia idea è quella di giocare cavallo G5 per attaccare F7 Quindi vedete che cavallo H5 è una mossa sbagliata Anche perché permette alla torre di attaccare direttamente la casa F7 E ovviamente non se ne sta neanche accorgendo Ecco, è arrivata la prima mossa sbagliata da parte dell'avversario Che è A6 Non c'è nessun senso per fare A6 Non c'è nessun motivo per giocare la mossa A6 Le mosse di pedone vengono solitamente fatte quando non si sa cosa fare E forse questo era il caso dell'avversario Però mi sembra strano perché deve sviluppare ancora l'alfiere Quindi poteva giocare per esempio D6 e sviluppare l'alfiere in qualche modo Insomma Ma non ha fatto niente di tutto ciò E ora qui sta rischiando parecchio C'è il cavallo in presa Che forse potevo anche prendere subito Però va bene anche così E c'è anche minacce di matto Ci sono minacce di matto qui in questa posizione Perché dico questo? Perché appunto Ora mi sembra che sia finita questa partita Guardate qua Ha ben tre pezzi che attaccano il re Ed è difeso da zero pezzi Questo è un problema grosso Non so se conoscete Tal Michael Tal Giocatore molto famoso Lui affermava che se i pezzi con cui attacchiamo Sono maggiori dei pezzi che difendono il re Abbiamo buone probabilità di vincere la partita O comunque di andare a dare scacco matto E quindi questo mi sembra proprio il caso Andiamo a catturare in F7 dando scacco E attaccando la torre Se il re viene sulla colonna F Ci dovrebbe essere almeno uno scacco di scoperta Quindi dove lo diamo questo scacco di scoperta? Torno indietro vai Torno indietro in B3 per non Cioè per permettere poi al cavallo di saltare Qui cosa posso fare? Facciamo donna mangia Vedete è finita in poche mosse poi in realtà E ora vediamo di capire dov'è il matto Per cercare di dare scacco matto Quindi scacco Dovrebbe tornare in E7 E alfiere G5 scacco matto È bastata una mossa Ovvero è bastato A6 per poi perdere la partita per il nero Che devo dire che ha iniziato a giocare anche abbastanza bene Però il gambetto di re è un'apertura molto tattica Dove ci sono diversi tatticismi E quindi è molto facile poi perdere se si fa un errore In questo caso l'ha fatto il mio avversario Ha perso ed è uscito Ok siamo partiti molto bene Facciamo la prossima partita Eccoci qui Un 900 di nuovo Stiamo attenti a vedere se sviluppano i pezzi Insomma come se la cavano Vediamo Ok questa è una difesa Petrov Conosciuta anche come difesa russa Catturo il pedone Lui ha catturato Però strano perché qui posso giocare donna e 2 Questa non dovrebbe essere granché come variante E infatti ha sbagliato completamente Ora lui è andato ad attaccare il mio cavallo Il problema è che mi ha lasciato un pezzo in presa netto Ecco qui penso che si tratti proprio di una non conoscenza dell'apertura Niente qui mi ha messo un altro pezzo in presa Però non so se prenderlo In realtà si posso anche catturarlo Mi sarebbe piaciuto guadagnare proprio direttamente la donna Ma no vabbè dai catturiamo Quindi un pezzo è un pedone in più In alternativa potevo tornare indietro No vabbè dai questo proprio sta giocando malissimo ragazzi Non capisco se lo sta facendo apposta di fare tutto ciò Oppure veramente ci sta ragionando perché mi sta regalando un pezzo dopo l'altro Ok difendiamo la donna qui Ok ora lui minaccia scacco matto Vai è arrivata la sua prima minaccia Però mi spiace per lui ma c'è D4 che apre la diagonale all'alfiere intanto E va a difendersi dallo scacco matto Ok Eh sta sacrificando tutto praticamente Non so abbiamo trovato uno che pensa che sacrificando tutti i pezzi si possa vincere la partita Vediamo Vediamo Tanto qui sta per beccarsi qualcosa Niente ha visto Facciamo questa Alfiere G5 Attacchiamo la donna Che ha poche case attualmente Ne ha una sola in realtà Donna D6 Vediamo se la vede Perché potrebbe anche non vederla effettivamente A questo livello Dato che indietro non ci può andare Ok a vista Bene scacco Catturo Minaccio questa Il bel doppio qui in F7 Ha abbandonato Vabbè Questa niente di che Ha sbagliato a giocare la difesa russa Perché dopo tre mosse non sapeva più cosa fare Cioè dopo Quante mosse? Sì dopo tre mosse O quattro mosse ha giocato Donna F6 Che non c'entra niente proprio Quindi prossima partita Ok Un altro 900 Vi ricordo che siamo partiti da 700 Quindi siamo a 200 punti in avanti Quindi si dovrebbe percepire perlomeno una differenza di livello Proviamo a giocare la Karo Kan Che non l'ho mai giocata Se non mi sbaglio per ora Durante questa serie intendo E vediamo cosa fa l'avversario Questo ci ha messo un bel po' Prima di fare la mossa al mio avviso Ha giocato Cavallo C3 Vado per D5 Catturo Quindi uno scambio normale Almeno comunque ha sviluppato un pezzo Ora vediamo se fa Cavallo F3 Oppure D4 Invece Alfiere B5 Va bene sviluppa un altro pezzo dando scacco Però Cavallo C6 Sviluppo il Cavallo in una casa naturale Lui qui è tornato indietro Questa non ha molto senso perché ha perso due tempi con l'Alfiere Ha giocato Alfiere B5 Alfiere A4 Non muovete troppe volte lo stesso pezzo in apertura Se non necessario ovviamente Perché se è necessario muoverlo Ok viene fatto Però Non era proprio il caso Quindi Alfiere F5 Per poi giocare E6 Perché ho sviluppato Alfiere F5 Prima di E6 Perché? Perché se giocassi subito E6 L'Alfiere poi qui rimarrebbe debole Perché andrebbe a battere sul proprio pedone Quindi Lui ha fatto H3 Mossa che secondo me non serve Ecco Mosse di pedone un po' casuali Senza sviluppare bene i pezzi Ecco Ne arriva un'altra F3 E guardate un po' Che sta succedendo Alle case scure Che sono deboli Meno male che c'è questo Alfiere Che per ora limita i danni Ma ora già qui ho una minaccia diretta Come vedete Quindi Esatto Una minaccia diretta Andiamo ad attaccare Perché no? Scacco In questo modo non può più fare l'arrocco Vediamo Alfiere G6 Perché avevo l'Alfiere in presa Devo salvarlo Quindi stiamo capendo Che la maggior parte degli errori Che vengono effettuati A questo livello Riguardano il fatto Di non sviluppare i pezzi In maniera coerente E di non arroccare Da quando abbiamo iniziato Questa serie Siamo giunti ormai al quinto episodio Gli errori siano sempre gli stessi Per ora Non è cambiato niente Anche se loro hanno 200 punti in più E si vede che magari sono più veloci Mettono meno pezzi in presa Perché A parte la seconda partita Ora non mi hanno più messo pezzi in presa Mi sembra Qui andiamo ad attaccare in G3 Cercando in qualche modo anche di dare scacco matto Perché no Anche se è difficile darlo Ora non c'è lo scacco matto Se non mi sbaglio E lui qui sta anche per dare scacco Quindi la posizione inizia ad essere abbastanza complessa Vabbè Allora scacco Vediamo che succede Qui che si fa Troviamo questa Eh non è semplice Non è semplice Non posso più muovere il cavallo Perché mi vado ad attaccare il re Con la spinta per esempio in B6 Vado a perdere un pezzo Quindi Su questa Vediamo lui cosa può fare su questa Non lo so Forse cattura Forse cattura Ok Siamo in difficoltà Qui diciamo Ma non è Non è grave la situazione Perché Abbiamo un sacco di attacco Anzi La stiamo rendendo interessante Sta partita Proviamo ad arroccare direttamente Mettiamo il re al sicuro Diamo un pezzo netto Va bene Ora lui dovrebbe prendere il pedone Come vedete Non mettono più pezzi in presa E vediamo cosa succede da qui Questa me l'aspettavo Un'ottima mossa difensiva Bene Bene Quindi Torniamo indietro Stacchiamo l'alfiere Ma andiamo subito a recuperare qualcosa Quindi abbiamo Andiamo a recuperare Il pezzo per pezzo Anzi Probabilmente passo anche in vantaggio ora Vediamo che succede Lui ci sta pensando Come fa a salvare la torre Eh Mi sembra piuttosto complicato Però devo dire che percepisco Il cambio di livello Eccolo L'ha trovata la mossa Va a difendere la casa g3 Bravo Ok Donna mangia c6 Poi recupero il pezzo Qui c'è un pedone in presa Come vedete Il suo problema È stato quello Di non aver arroccato Per il resto Non sta lasciando pezzi in presa Non sta commettendo Grossi errori Mi sembra che abbia Un certo grado di precisione Nel gioco Quindi questo Va molto bene Ora qui che si fa C'è il pedone Prendiamo il pedone Prendiamo il pedone E poi iniziamo ad attaccare In qualche modo Vediamo Lui ha giocato Cavallo f3 Cavallo f3 Che si fa Facciamo questa Portiamo l'alfiere in attacco Quindi attacchiamo le case chiare Ma attacchiamo il cavallo E la torre In questo caso E lui deve assolutamente difendere In qualche modo Quindi re f2 Oppure re g2 Per forza Però a quel punto Dovrebbe cadere F4 Ci sta pensando Invece è andato a difendere Invece è andato a difendere Di donna Ok È andato a difendere Di donna Interessante Forse tra l'altro Era l'unica scelta Cioè l'unica cosa Che poteva fare Ok andiamo a Inchiudare il cavallo In modo tale Da attaccare in F4 Appunto Che come vedete È attaccato due volte È difeso due volte Il problema è che Inchiudando il cavallo Poi era difeso solo dall'alfiere Lui sta provando In un certo senso A reagire Mi sta attaccando la torre In f8 Devo preoccuparmi o no Vabbè Dai salviamola Vediamo che succede In alternativa Potevo anche mangiare Direttamente in f4 Sarebbe andata comunque bene Perché avrei messo Una certa pressione Qui In e2 Questo è un giocatore Che probabilmente Non ha mai studiato scacchi Ha fatto Tanta pratica Ma Il problema è che Non avendo studiato Non sa bene cosa fare Perché Perché già Dopo le prime mosse Era comunque in svantaggio Ma Essendo preciso Riesce a resistere Penso che questa è una delle partite In cui ha resistito di più L'avversario Perché siamo comunque A 25 mosse Anche se è persa Per lui Però insomma Vediamo questo scacco Qua Lui mi attaccava la donna Però Ho lo scacco intermedio In realtà Ne avrei un altro Scacco intermedio E andiamo Attaccare sia la donna Che la torre Però devo stare attento Perché ho la donna Impresa In c2 Ok Che facciamo Che facciamo Ah carina Questa idea Guardate qui Alfiere mangia F3 Non può prendere di donna Ma deve per forza Prendere di re Perché la donna È inchiodata E quindi poi Vado a catturare la donna Proprio In maniera netta Senza perdere la mia Bella Non è male Come idea Tra l'altro Devo stare attento Al tempo 26 secondi Non me ne ero accorto Effettivamente Ma ora ci dovrebbe essere Lo scacco matto A breve Non ha più mosse L'unica è questa E c'è scacco matto In poche mosse Vediamo Una 3 qui 2 Oppure c'è Scacco matto Direttamente con il cavallo Vai Abbiamo scacco matto Direttamente con il cavallo Questa mi è piaciuta Come partita Non era male Sapeva il fatto suo Diciamo Oh Abbiamo beccato Il primo giocatore Che ha più di 1000 punti Che si gioca Giochiamo E4 Continuiamo ancora con E4 Vai E4 E5 Ha giocato Prima ho giocato Il gambetto di re Ora che si fa Che giochiamo Qua Cavallo F3 Dobbiamo impostare Una partita spagnola Vai Alfeb B5 Penso L'apertura più famosa Di tutte Questa La spagnola Arrocco Ora lui ha giocato D6 Insomma Non è tanto giocata D6 Però va bene Non sta commettendo errori Wow Addirittura G6 Esiste questo Questo sistema Mi sa che si chiama Difesa Cozio Una cosa del genere Ah Quindi sta Attaccando proprio Direttamente E4 Senza sviluppare pezzi Non lo so Vediamo Io gioco D4 Conquisto il centro Gli lascio Il pedone in presa Perché dopo Cavallo G5 E comunque Non penso sia facile Difendere il pedone Qui catturo Ecco Questa forse è sbagliata Perché c'è tanta tensione C'è tanta tensione Al centro Voglio dire Il gioco Si stava svolgendo Al centro Lui va ad attaccare L'alfiere Va bene che sono costretto A dare la coppia Degli alfieri Però Mi sembra di stare Molto molto bene In questa posizione Quindi cambio Con scacco Vado a cercare Di guadagnare Un pedone Lui ha i pedoni Doppiati Qui entrano in gioco Altre cose Che nei precedenti episodi Non abbiamo potuto vedere Però qui In questa partita Possiamo appunto Andare a notare La struttura pedonale La struttura pedonale È molto importante Negli scacchi E lui ha Una struttura pedonale Qui pessima Perché ha due pedoni Doppiati Quindi Non dobbiamo Avere pedoni Doppiati Questa è una regola E in più Contano le isole pedonali Cioè Catene di pedoni Io ho In pratica Due isole pedonali Perché questo pedone È comunque unito a questi Mentre lui Ne ha Tre Come vedete Ha tre isole pedonali Ora qui C'era questa minaccia In F7 La classica Forchetta di cavallo A re e torre Ha provato a difendere Perché a questo livello Già iniziano a Percepire Le minacce Dell'avversario Quindi Cosa minaccia L'avversario Loro si pongono Questa domanda Il problema è che Ancora hanno problemi Difensivi Perché non si difendono In maniera adeguata Cavallo H6 Posso andare a catturare Il cavallo E poi A dare la forchetta Quindi è una mossa Sbagliata Comunque Cavallo H6 Ha fatto un tentativo Ma è Sbagliata Qui tra l'altro Abbiamo la scelta Poi di prendere L'alfiere O la torre Prendiamo la torre Perché vale di più Anche se Potevo anche Prendere l'alfiere In quel caso Avrei avuto Proprio un pezzo netto Invece ora Il cavallo Rischia di essere Perso Appunto Di venire catturato Dal suo alfiere O comunque Dal re e alfiere Ok Benissimo Che si fa qua Facciamo G4 G4 Mi sembra Un'ottima mossa Vado a rimuovere Il difensore Di E4 Nel caso Di alfiere Mangia G4 Vado a catturare Di torre E vedete un po' Cosa succede Attacco doppio Quindi vado A guadagnare Un pezzo E deve stare Molto attento Perché in realtà Non sto regalando Un pedone Questo è un pedone Avvelenato E l'ha preso Ecco questo è Chiaramente un errore Perché appunto Mi fa guadagnare Qua materiale E ora Ho troppo vantaggio Più 8 Insomma Qui sacrifico Per almeno un pedone Quindi non glielo diamo Proprio gratis Il cavallo No Non l'ha neanche Mangiato Ormai La considera persa Lui questa partita Evidentemente Quindi andiamo A attaccare la torre Con due pezzi Ed ha abbandonato Va bene Dai Carina Carina come partita Iniziano a piacermi Passiamo Passiamo alla prossima Perché comunque Noto più precisione Per questo Non lasciano semplicemente I pezzi in presa Come facevano Fino ad ora Ok allora D4 ha giocato Giochiamo cavallo F6 Proviamo a impostare Un est indiana Se dovesse giocare C4 Però no Ovviamente Ho giocato questa Questa non lo so Facciamo così Facciamo C6 Non ho mai visto io Una roba del genere Anche perché Non so se già perde qualcosa Non lo so Io ci provo C'è cavallo C3 Che lo salva Ma vediamo se la fa Eh ovviamente Non la fa Lascia il pedone in presa Se a questo livello Il problema è che Comunque Non conoscono le aperture Però poi Sto notando Che lui è un 876 Non è Non ha mille Come gli altri Comunque Qui andiamo A guadagnare il pedone Lui Offre il cambio di donne Vai Accettiamolo Anche per vedere Cosa succede Appunto Se Vengono cambiate le donne Quindi si semplifica Un po' la posizione Andiamo verso il finale Per vedere Un po' come se la cavano Che errori commettono Per esempio Errori Strategici Ecco Per esempio Oppure Errori Banali Questo è un errore banale Quello di giocare P3 Perché c'è la torta Che è scoperta Quindi andiamo A attaccare il cavallo Andiamo A attaccare la torre Addirittura Parato di alfiere In B2 Non ci siamo Perché mi sta regalando Un pezzo E ora Ho un pedone Un pezzo in più Quindi questa partita È da abbandono Questa volta Non mi sono divertito Ok Cavallo mangia B4 Andiamo a guadagnare Un altro pedone E qui cosa possiamo fare Abbiamo tante di cose Da fare in realtà Scacco Scacco Quindi diamo il doppio Poi siamo pronti A prendere l'alfiere Magari Il cavallo Volevo dire Anche perché qui L'alfiere è in presa Dai prendiamo Il cavallo Vediamo cosa sceglie In questo caso Dovrebbe mangiare Il cavallo Esatto Ok Arrocco Però abbiamo guadagnato Un bel po' Di materiale Tre pedoni in più E più il pezzo Meglio di così Non poteva andare Ok Salviamo l'alfiere Che era in presa Qui giochiamo Cavallo C6 Sviluppiamo un pezzo E ora devo cercare Di sviluppare l'alfiere In qualche modo Ok Andiamo a sviluppare l'alfiere Possibilmente con un tempo Lui qui sta attaccando la torre La difendiamo Torre B8 E deve stare attento ora Perché potrei anche pensare Di intrappolargli il cavallo Anzi Andiamo a farlo Perché se cattura ora in C6 Questo cavallo Come vedete Non ha più case Non può andare da nessuna parte Qui no Perché c'è l'alfiere e il pedone Qui no c'è il pedone Qui no c'è il pedone E qui non va bene Perché appunto C'è l'alfiere Quindi mi ha regalato Un altro pezzo Ho due alfieri in più qui Netti Non c'è stata storia Neanche stavolta Torre in presa Però La diagonale qui insomma È abbastanza lunga Magari non se ne è accorto Salviamo anche questo pedone Non regaliamo niente Ecco è importante Cercate di non regalare Nessun pezzo Non ha molto senso Se vedete lo scacco matto Va bene Potete anche regalare qualcosa Però Se non c'è Al massimo uno scambio equo Ecco Pedone per pedone Non mettetevi a regalare pezzi inutilmente Benissimo Allora scacco Proviamo ora A cercare di dare scacco matto Scacco Ok Ora siamo vicini allo scacco matto Non dovrebbero mancare tante mosse Vediamo Ok allora scacco E qui ora dovrebbe arrivare lo scacco matto Ma figuriamoci Lui non se ne accorge neanche Qui ho lasciato Un pezzo in presa Ma l'ho fatto per un motivo valido Perché c'è scacco matto In H5 Ok Abbiamo superato I 950 Cosa possiamo dire Di oggi In questo episodio Vedo che comunque Sono stati più precisi Rispetto alle altre volte Ovviamente Nessuno di loro Conosce Le aperture Qualcuno Devo dire che comunque Ha sviluppato I pezzi In maniera coerente E aveva Un certo grado Di precisione Però Sono comunque Giocatori inesperti Probabilmente Giocano da poco tempo Quindi questo Ancora è un fattore chiave Anche per oggi è tutto Grazie per la visione Di questo video E alla prossima Ciao